ehi la ciurma io sono mazzatessa e bentornati in questo episodio di book of demons il gioco mi è sempre più interessato e quindi continuiamo questa avventura fintanto che non ci stufiamo e speriamo di non stufarci presto allora niente poi in città se non ricordo male abbiamo fatto tutto quindi lanciamoci nelle catacombe senza attendere troppo perché non siamo neanche a metà strada forse oggi riusciamo ad arrivare al cuoco però allora farei una partita piccola come al solito per permetterci di contenerla tutta all'interno di un gioco qua forse avremmo il nostro cuoco malvagissimo ma noi ci lanciamo in questo ci sono di nuovo vabbè andiamo ok mi dimentico sempre di cliccare allora ma che che hai sentito la musichetta recupero il cuore ehi dove vai dove vai ok adesso ho paura di quest'altro che si attiverà di sicuro appena passo infatti dove vai dove vai ma dove vai ahia mi ha fatto perdere dei cuori dei cuori preziosi ma qua ci sono le scarpe già per proseguire ho già trovato le scarpe ma chi è che si è svegliato è tanta gente cattiva ehi 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 chi è questo uomo che spara golden hearts il fuoco meno no che è successo dammi le stelline via dammo se dammo se ma guardate che situazione le situazioni eeeh poi come ne riesco di far via via ehi 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 ehoh è Ridatemi i miei cuori Ridatemi i miei cuori Ehi Aia Via via Eh si proprio No qua ci moriamo di brutto Ho finito le pozioni anche E niente Ma non so cosa posso fare qua di altro Cioè se torno là E ci muoio ma di brutto ancora Perché c'è davvero troppa gente Ma il cavolo faccio a tirare giù tutta quella gente là Non recupero neanche i miei oggetti Probabilmente Torna No vai 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 via Vai via vai via vai via Mi dammi la tomba Ok Come fa uno a sopravvivere normalmente In una situazione come questa Sono curioso di vedere una speedrun A difficile uno come cavolo fa Ma poi Ma continuano a spawnarmi i minion ovunque Di qualsiasi tipo Lasciatemi in pace Eh no nulla E nulla Fatemi andar via di qua E niente No 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 scusa No 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 scusa Non vado con un cuore Ridammi Ridammi la vita Ma Come Fatemi recuperare la tomba Ok Adesso non mi allontano Mi resto qua A morire là vicino E c'è questo con Questo che si imbizzarrisce Ok Quello c'è morto Ma Oh Una pozione Ma ne ho usate tipo 70 Per cercare di spravvivere Via Damos Ok Quello c'è andato Ma è il tizio con i cuori gialli Che fine ha fatto Non l'ho mica ucciso Il famoso tizio con i cuori gialli Oh Sì ha salito di livello Ok Ottimo New rank E questo con No Non è questo Questo è quello che Che si imbizzarrisce No Cosa ho fatto Uh Mannaggia Ho schivato Una freccia e il veleno Contemporaneamente Ehi Ehi Ringrazio comunque Che i gargoyle Non si siano attivati prima No ma No ma Sul serio Ma il tizio Con i cuori Dorati Che fine ha fatto Ho un'aura blu Bellissima Quando guardo Le mani Ma ho già questa roba Equipaggiata Che mi da Della roba in più Ehm Cos'è tutta sta Gente Monge Ma una fontana Dico Mi costava tanto Darmi una fontana Da qualche parte Poi magari è qua Tipo appena Dietro l'angolo Oddio No Non voglio Non voglio esplorare Alla per ora Andiamo a vedere Se perché c'è qualcosa Di interessante Da questa parte Oh Kaiser Ma mi volete Morto Proprio Cos'è sta roba Deathrage Ready Cos'è Deathrage Hub Uccidetemi Questo Sono senza vita Però questo è spawnato Da qua sopra Quindi magari Ho liberato un po' Il discorso Ma Ah E questa L'abilità Ma l'ho sbloccata Con l'ultima salita Di livello Ok Si ricarica Quando salgo di livello Quindi voglio dire Che adesso Per un po' È bloccata Ma Oh Nessuna fontana Qua Dai Nell'ultimo livello C'era tipo 70 fontane Ah Eccola Eccola la fontana Fatemi bere Eccola la fontana C'è Ogni volta Che perde un cuore Spawno Della gente Ma che Ma che Kaiser Eccola la fontana Ridatemi i miei cuori Fatemi uccidere Questo tizio Dammi Della vita Ho pulito Grazie Oh No Un boss No Ok Ho una pozza Se non l'altro Ah Che quello Questo non si arrabbia Ma Ma Oh Basta Spawnare Gente Come Immune Porca miseria Resto In Pieces Ah ma Avevo capito Forse l'altro Il boss Oddio La sofferenza Sarei curioso Di guardarmi Uno Streamer Importante Di sto Gioco Qua Perché Io sto Morendo Tantissimo Senza Un criterio E poi Ma basta Ma la volete piantare Disponare Gente a caso E tutti Sti Arceri Del Manga Via Via Morete Tutti Questo è quello Che si arrabbia Questa è una libreria Ok Ok Santi I nomi Sì Comunque No Le fontane Dopo un totter Se ti danno Level clear Ok Oh ma no Ci abbiamo messo 15 minuti Per diventare Solo per fare Questo pezzo qua Non riusciremo mai A fare Tutto Cioè 44 Cioè Cioè no C'era un sacco di gente E non Noi Immagina Qua Cioè siamo Neanche a metà Del percorso Oddio No E niente Un altro con i cuori gialli Porca miseria Via un altro cuore Ma basta Ma mi lasci in pace Pepe easy Quello è malvagio Perché spuono Le robe cattive The forbidden one Ma che case Ma Eeeh Eeeh No Non ci siamo capiti Non ci siamo capiti Cosa sono Tutti sti sbiro Lucchichi Del manga Via 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 Lo sono Nel true drink Datemi una fontana Di quelli che posso usare Uuuuh Cos'è si arrabbia Ecco lo sapevo Che si arrabbiava Porca miseria No Davos Intossica qualcun altro Non voglio bere Non voglio bere Voglio solo uccidere la gente No sto templare Tira giusto templare Porca miseria Allora Sto tizio Ma me lo vuoi colpire Non voglio bere Voglio colpire questo Per piacere Via Eeeh No Due di quei tizi Ma basta Con questi Fuochi d'artificio È passato Natale Da un pezzo Anche Capodanno Ecco il spevo L'ho fatto Arrabbiare Allora Possiamo tirare giù Questo Stupido Angelo Della muerte A me è una donnina A me è una donnina Perpetua Per fortuna Andiamo in qua A vedere un attimo Uh Belle cosine Proprio adesso c'è La strada Per andarsene E dammi Ecco così Vi curo Quel cuoricino Eeeh Lo spevo Muoreci malissimo Uff Uff Questa è un peggio Ah Non è ancora finita C'è un tizio Con i Cosi gialli Non oso immaginare Quanto male faccio Quello spadone Se mi colpisce Uff Ci sono sti Gargoyle Che mi saltano Non lo posso E infatti Ridammi i miei cuori Ma non è che danno Mi ha fatto Quello tizio Da solo saltellando Sono rimaste due cose Cosa da prendere Cosa sono rimasti 37 gold E 34 gold Sarà dell'oro Che è caduto Quando ho ammazzato gente Tipo Qua Ok Dove l'altro Me lo dice Per caso No Ah eccolo Era nascosto Dai Andiamo via Poi che mi sa 17 minuti Questo deve essere Più corto Però Questo qua Già che abbiamo fatto Era molto più corto Perché comunque C'era meno Gente Da Trucidare E Sto gargoyle Adesso Ah Sono salito di livello Aspetta che Facciamo Più vita Ma Ehi Che Come ho perso Tutta sta vita Sono già senza vita Praticamente Ma scusate Posso ritirarmi Andare a bere La pozione Piana superiore Sì ma Questo è vuoto L'ho appena ripulito Vengo solo a bere Qua alla fontana Se scendo sotto Non dovrei Rincontrare tutti Cioè un paio Dovrei averli uccisi Credo Se tieni traccia Di quello che fai Eh sì no Infatti Le ho uccisi Ah no 255 È il totale In assoluto Non di Di quanti Ne ho uccisi Qua Ehi Ma che storie Hanno i cuori Congelati La E di nuovo Con i cuori Gialli E c'è anche Un altro dietro Mi spava Una roba addosso Non facciamo Non facciamoci mancare Niente Corri Corri Via agli arcieri Via agli arcieri Via agli arcieri Via agli arcieri Però voglio il tizio Che mi spawna Non vuoi Non vuoi Il tizio che spawna 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 Ci muoio Ah no È vero Perché avevo la 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 Qualche Non ci sono Gli arcieri Che ti picchio Con piacere Ma vi picchio Tutti con piacere L'unica cosa È che Porca miseria Non tutti insieme Magari Calla Appena detto Non tutti insieme Porca miseria Queste banane Americane È ancora Ma Oh Avete anche Rotto Una certa Level cleared Ma no Io me ne torno sopra Altro che andare sotto Ho bisogno di bere Nella vita Sono senza vita Di nuovo Anzi che non ci sono morto Sto giro E poi ci rimane L'ultimo pezzetto Che è quello Cattivissimo Tipo No Non voglio andare Eh sì Torna su Lo so che sono In scarsa vita Ma Ho bisogno di bere Ma come Non mi fa bere Posso tornare In città Per caso E qui E ritornare A quel punto Back to town Eh Ah Ah A ver Sicuro Perché qua Non avevo ancora Prezzo le scarpe Per il piano di sotto Ma tanto Ok E qua Tanto ci muoge Di brutto Qua ci muoge Di brutto Qua ci muoge Di brutto Fatti dare Un altro colpo In faccia Per piacere Ok Qua uno Dovrebbe continuare Andare indietro Del guaritore Quindi Ah Un po' Un charge Ok Ma tanto Non mi interessa Eccala Chi è sta Embaradano Hotshot Che sta roba Eeeh Si brucia pure Quella farghe Che ma che roba è No Ho usato la pozione Non volevo usare La pozione Vabbè Non è Non mi è andata Troppo bene Troppo male Via Ma basta Con ste Robe cattive Ghiaccianti Ma Mi ha messo Del fuoco sotto Ma siete Scemi Ma che Ma che Ho Ma Aia Ma Oh Un po' Distrarsi Un attimo Che c'ha Il fuoco Sotto i piedi Via 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 Damose 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 Aia Ma ancora Basta Stupido Archer Ah ma è lui Colo E' una miseria E' una miseria E' l'arcere del fuoco qua che devo uccidere Allora Oh ok Ma uccidete questi arcieri Porca miseria Porca miseria Via 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 Mi spawna tutta la roba in faccia qua Oh santi i nomi Ma sono gli 70 E' questo pozzo Ma di nuovo Ma quanti cuori gialli ci sono qua Oh E' già nel cuore nel tempo Quello sarebbe carino ma Mi sa che Ok Quindi adesso cos'è? E' finito? Devo andare dal Se vado sotto C'è il cuoco Eh sì Cosa che dice? Catacombs Ma non siamo già nel catacombe? Scusate Ma direi che possiamo anche andarci in questo momento Ciao E' finito Non è finito Non è finito Nessun magico caudone Però Ho quasi 25 mila per il Cos'è che dice? Per il golden key Mi sa che mi conviene risparmiare a questo punto Upgrade card Questo posso upgradeare Scheleton belt Le pozze Ma le pozze mi danno più roba Se le upgrade Ah per far identificare le carte devo andare dal mago Questo qua Identify cards Mille luna Proviamo Ok 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 ma c'ho del ripropaggiamento migliore quindi adesso Amulet of mana Amulet of life Ah qua ne ho più versioni Oh la versione magica Quella che ho sbloccato ma Scusa No Eh sì metti con la magica scusa Ottimo Eh Livello 1 magica Livello 1 magica Questo anche c'ho la versione magica quindi Molto carino Ok Upgrades Posso upgradeare la health potion Però comunque devo trovarle Vabbè Vabbè E niente no Visto che non ho completato qualcosa là Non mi ha dato neanche l'exp Non sono salito di 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 Come si chiama Di Avatar Vabbè E niente Io vi ringrazio per la visione Se passate praticamente mezz'ora Vi invito a lasciare un mi piace qua sotto Un commento E vi auguro una buona giornata Ciao 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 Grazie per la visione!